bella a tutti ragazzi e benvenuti bentornati in questo nuovo video in questa nuovissima serie oggi come avete visto dal titolo siamo con il primo video di social manager 2023 gioco veramente incredibile decisamente migliore di tutte le versioni precedenti dove puoi addirittura creare il tuo club infatti proprio per questo ho fatto ho creato ho creato la dream carmine e oggi andiamo a fare qualche partito a seconda questa squadra vorrei farne tre molto sintetico ma vorrei farle lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina e seguitemi su twitter per seguite su twitter link in descrizione veramente eccitato andiamo ora va beh qui offerte per il mio portiere no 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 il mio portiere no pure se sono parecchi soldi sono parecchi soldi dai vendiamolo assolutamente possiamo assolutamente prendere di meglio poi mi serve anche un innestendo di centrocampo adesso vi mostrerò anche la squadra veramente sono eccitatissimo allora vorrei anche illustrarvi un po il piano perché qui va bene ho organizzato un amichevole non mi ha salvato però un amichevole contro il palermo volevo giocare quindi oggi andremo a giocare le partite con il livingstone il motherwell e il when we spawn is baden sono tutti amichevoli e invece il prossimo episodio imperdibile perché iniziamo il campionato l'amichevole col palermo e la partita di coppa con il borussia dortmund non possiamo assolutamente non potete assolutamente mancare un appuntamento simile abbiamo venduto il portiere ho capito vabbè per ora giochiamo così oppure andiamo prima a vedere un portiere andiamo prima a vedere un portiere lo trovo e poi lo compriamo insieme ho cambiato idea voglio voglio tenermi soldi per fare per provare un qualcosina ora vi faccio vedere ma di sicuro spero sarete d'accordo con me e beh questa è la mia squadra mi serve un centrocambista al posto suo pure un terzino non farebbe male anzi è pure un portiere però vabbè muovediamo loro mica possono fare gli esterni no no posso anche cambiare a moto intanto giochiamoci in questa partitona con il livingstone al fear park vabbè siamo qui in campo super spettacolare anche la grafica ora vi faccio vedere l'ingresso dei giocatori mentre vi dico che oggi oltre a questo video più tardi che è bello anche il guarderine con la bandiera in molti dettagli che oggi oltre a questo video ne uscirà un altro veramente strepidoso quindi vi consiglio di restare sintonizzati con il canale ora vabbè saltiamo qui perché comunque abbiamo visto e iniziamo con la partita abbiamo mostrato solo le azioni salienti adoro anche queste cose che ci dice il vice allenatore ci dice abbiamo vantaggio a metà dobbiamo attaccare nella zona centrale noi andando su tattiche istruzioni possiamo cambiare molte cose in gran strategia per il momento rimaniamo normale strategia personalizzata e mettiamo attacco street attacco al centro ci vediamo alla fine qui c'è un'occasione non so se sia per noi o per loro non ho capito mi sa che è per noi è per noi Evans vai vai bruciatevi in velocità Evans falla dentro e non puoi sbagliare sei solo rete shobsberger non c'è il replay quindi salto direttamente ma yes super vantaggio nostro super Barker sta facendo male ma io ho pensato magari vorrei piazzare Barker e passare a un 4-3-1-2 dovrei comprare però vabbè sì non ci può stare come idea però per adesso per adesso giochiamo così e anche non faccio cambi magari istruzioni metto una strategia a non parcheggiare il bus proprio ma allora attacco totale no pressing alto no vabbè tenere la palla preveniamo l'occasione da gol degli avversari la salvata vabbè comunque noi ci vediamo alla prossima occasione aspetta ecco qui un'occasione vai shobsberger ancora tu e messo giù ma what vabbè no 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 vabbè ok il rischio è stanco no devo sostituirlo esattamente quello che volevo fare volevo fare le sostituzioni infatti è molto molto stanco mettiamo il buon Griffin che mi va a giocare qui con lui qui al centro noi andiamo così devo anche Barker che sta facendo cagare al cazzo e mettiamo Dudgal o Ratcliffe mettiamo Ratcliffe British ma può giocare anche qui sulla sinistra non può porca la madosca boh per ora io me la me la giostrerei in questo modo anche a livello di tattica vabbè andiamo occasione per noi Ratcliffe palla dentro Evans alto non ha registrato la clip hanno preso un palo assurdo come ci stiamo salvando però adesso ci sono i secondi finali dai dai tienila tienila Malcai fine seconda vittoria consecutiva perché quando facevo le partite di allenamento da solo no comunque hai vinto la mia ora di prima seconda vittoria nella nostra storia bene ci vediamo direttamente dopo raga raga sette miliconi raga ok comunque siamo siamo partiti adesso qui e vi aspetterà aspetto le occasioni importanti e poi ve le mostro fatene rimessa per loro tierne parte la botta attraverso incredibile ci saliamo così che culo ma sempre in trasferta giochiamo ma è possibile intanto no niente palla nostra andiamo lì davanti con Gore non sbagliate non sbagliate va in gna nonna palla dentro palendo Evans sei solo tiro rete rete conor 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 bravo bravo il capitano vabbè poi vediamo chi dà la fascia meglio però la dà lui grandissima ripartenza Barker vai Barker tienila vai così resisti resisti mamma mia io che lo voglio vendere io che lo volevo vendere Dan Barker che gol 2 a 0 bene adesso parcheggio il bus e poi vediamo gna gna la tiene con calma così ho parcheggiato il bus Denton c'è anche il tempo per attaccare il stacco impetuoso paratone bene bene col piede è giusto attenzione attaccano loro attaccano loro dai bloccateli in qualche modo fate qualcosa dai ho parcheggiato il bus cercate di bloccarli palla dentro è solo Van Lendrit tra l'altro la cosa bella ora vi faccio vedere ho parcheggiato il bus come dice passa una mentalità più difensiva più difensiva di questo che c'è vabbè che dite se lo creiamo insieme questo finale questi ultimi 10 minuti si spera non ci siano più occasioni a me va benissimo così benissimo l'abbiamo fatto anche un altro tiro in porta ma con calma dai non dai che fatta dai Kelly con calma palla lì yes fine super 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 dream super dream questo è il nostro bellissimo stream ora ci vediamo con l'ultima partita come esterno avevo pensato a mamma tu canutè dell'avellino inviando un'offerta da 700.000 euro bella onerosa importante a sto punto non si muove Barker oh cazzo mamma mia no non un milione è troppo però vediamo qualcosa negli svincolati dai Enoch Quateng è il giocatore per l'esterno che ho individuato vi facciamo un triennale da 13.000 onesto invece adesso cerchiamo subito anche il terzino destro mi sembra comunque sì allora andiamo subito di questi qua vorrei anche puntare su una linea un po' italiana prendiamo Riccardo Fiamozzi 9.500 anche dai generoso e diciamo che ci servirà anche un portiere ovvio come portiere il migliore sarebbe lui e io vorrei lui proprio lui non vuole venire da noi altrimenti abbiamo questi 72 Arboleda che è molto più giovane di Pascalis andiamo così 13.500 dai onesto un miglioramento rispetto a quello di prima vi faccio sapere se arrivano hanno firmato tutti intanto che metto tutti in prima squadra e gli do i numeri vi vorrei dire che l'ultima partita non la giocheremo perché comunque c'è le altre quelle di prima erano amichevoli comunque del torneo c'era qualcosina in palio e ne abbiamo giocate ovviamente c'è qualche soldina in palio adesso invece questa è qui dove non c'è niente in palio questa qui in particolare la vorrei saltare se riesco a venderlo per così tanto tempo vai e niente questa qui la vorrei saltare velocemente vi mostro soltanto il risultato alla fine la partita è finita 2 a 0 per noi doppietta di il nostro attaccante insomma ora vi volevo solamente ringraziare per essere arrivati fino a questo punto del video 1306 spettatori buono record non riesco più a parlare vi consiglio di mettere like di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e di seguirmi su twitter link in descrizione e vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà un altro super video e niente bella